Ci sono momenti in cui ti piacerebbe aggiungere un altro strato di colore sopra, ma ti rendi conto che ci sono già molti strati di colori pastello nella tua carta. In questo caso, se la tua carta non è più in grado di accettare altri strati, potresti pensare di usare il fissativo con una spruzzata leggera. Aspetta che si asciuga. Poi puoi lavorare tranquillamente sopra con lo strato successivo di colore. E' importante usare il fissativo con parsimonia. E ti mostrerò cosa succede se non lo fai. Come puoi vedere, il fissativo scorisce notevolmente il tuo pastello.